buongiorno qui siamo in produzione massima stamattina che hai fatto i ravioli con ricotta e funghi porcini madonna che spettacolo guardate che robetta mamma mia questi 65 anni di matrimonio 65 anni di matrimonio comunque è assurdo 65 anni di matrimonio mi fanno stanno sempre a a bisticciare e tanto stanno insieme e adesso se ne trova una normale cioè una roba pazzesca non sarà il segreto ma questo come come no mannaggia la madre del giallo ma possibile che io la star fa così ma questo è marima scusa da uno che gli trema al braccio come fa a me siamo al cazzo come fa a me te levate di coglione ah ma com'è oh vattene che te la do no ah mi ha guardato qui eh che tu me la rimpaste tutte mica e la butta via ma tu dai che nasce levate niente non accetta gli anziani non accettano i consigli dei giovani no sono i giovani che hanno da piedi consigli dagli anziani e tu che consiglio mi daresti ah che te le vado di coglione che me le sta impicciando ah non fa rumore sto ascoltando la musica ma questi ravioli rinevicati con doppia neve raviolata ripieni che dieta è la dieta che mi fa i cazzo mie e dopo e dopo gli altri non fai cazzo loro e poi e dopo va tutto bene e poi se ognuno si fa i cazzo sui e poi e poi era io affanculo